oggi mi chiedete cosa faresti se la wwe sparisse dalle tv italiane beh è un argomento di cui si sta trattando proprio in questi giorni e in queste ore e la cosa banale da dire è che in generale mi troverei senza lavoro quindi disoccupato che è un'ipotesi certamente presente sin dall'inizio in maniera costante nel mio percorso professionale anzi è assai comune mi azzardo a dire tra tutti coloro che svolgono il mio mestiere nel mio caso gli show della federazione potrebbero comunque essere acquistati da un emittente o da un gruppo editoriale che non intende puntare sulle mie capacità e competenze e dunque anche in quel caso sarei a spasso pur restando la wwe in onda quindi quando sei un telecronista iper specializzato che ha dedicato per vocazione tutta la sua vita e anche il tempo libero per l'aggiornamento professionale a quella disciplina o a quello sport beh alla fine ti resta un po il cerino in mano perché hai occupato una casella magari anche con poca o esigua concorrenza ma se non scelgono te o se sparisce ciò nel quale ci sai fare e beh il gommone affonda e tu cerchi di pagaiare arriva con molta difficoltà ora in questo preciso istante io non ho un piano b ben chiaro ma per prima cosa se dovessi perdere il lavoro cercherei di restare in ambito televisivo sentendo tutti i miei contatti non ne ho tanti però qualcuno in 24 anni di telecronache l'ho raccolto per capire se c'è uno spazio per me anche dietro le quinte non ho bisogno di apparire a tutti i costi potrei essere un aiuto autore potrei scrivere i testi oppure fare da aiuto e supporto nella preparazione di trasmissioni o di speciali alla fine conosco il mezzo tenete conto che io ho lavorato anche per sette anni nei giornali locali della mia città quindi ne comprendo le regole so scrivere il che non garantisce nulla perché nella tv di oggi non ovunque ma in tanti casi è importante avere dei buoni contatti o essere inseriti magari in una struttura che già ha delle ramificazioni sue quindi un fornitore di servizi per la tv o una società di management o un'altra che organizza show e spettacoli li confeziona e li vende chiavi in mano quindi saper fare delle cose non ti mette la testa sul cuscino però nella vita non si fa mai non si sa mai e un giro esplorativo lo farei a prescindere in fondo ve l'ho raccontato credo diverse volte tanti anni fa ho sostenuto il primo provino per diventare telecronista allora a stream proprio inviando una mail alla quale mai avrei pensato di ottenere risposta io le inviavo periodicamente a tutte le tv dicendo guardate sto facendo gavetta sto imparando il lavoro nei media della mia città collaboravo anche con una emittente locale se doveste comprare il wrestling mi voglio proporre vi pregherei di tenermi in considerazione e alla fine uno di questi messaggi è arrivato sul tavolo giusto quindi per me vale sempre il teorema che la storia la fa chi osa e mandare un curriculum o prendere il telefono o mandare un messaggio un whatsapp alla fine lanci il sasso e vedi se poi rimbalza al contempo cercherei di essere più presente sul web per capire se con i contenuti social posso in qualche modo avvicinarmi a viverci ora ci sono degli influencer in italia che trattano di wrestling che dicono che loro lo fanno quindi dubito che mentano quindi credo che sia possibile il mio tenore di vita è basso l'ho sempre dichiarato si compro qualcosina i fumetti libri però non ho mai speso per cose di lusso o per degli status symbol da sfoggiare o da ostentare e non lo faccio di certo ora che sono oltre i 40 anni che a queste cose non mi hanno mai interessato ok certo avrebbero migliorato la mia qualità sociale ma chi se ne frega io sono io cercate se volete frequentarmi di comprendere chi c'è sotto gli occhiali e la maschera e non sarà certo un abito firmato o un orologio costoso a farvelo comprendere o a farvelo capire quella sarà un'altra illusione quindi non è che a me mensilmente servono chissà quali introiti ad oggi ve l'ho detto in tante salse sono distante dal traguardo di starci dentro con internet ma è quasi un hobby è vero io ci impiego comunque tanto tempo però forse con un'attenzione prioritaria a questo mezzo beh la situazione potrebbe modificarsi meglio chi lo sa così a naso se non ci fosse altro credo che ci investirei qualche mese 6 8 per capire che rotta prende il vascello poi se non dovessi se non dovessi vedere degli incrementi sostanziali direi signori magari addirittura diminuiamo perché alla fine ho una priorità che è quella di pagare le bollette in aggiunta a questo proverei a creare e spoiler ci sto già pensando proverei a creare dei mini show di posa e franchini se il gods è interessato ma lo è da poter proporre questi mini show alle fiere dei fumetti o della cultura pop come di recente è successo al comic con di bergamo anche se lì non era un pose franchini show ma era un panel con tanti altri ospiti tra l'altro prestigiosi importanti e competenti nel mondo degli anime dei film del fumetto e via dicendo io parlo di eventi a tema posa e franchini ho già anche il titolo in mente pensate che bello il titolo è c'era una volta il wrestling e c'è una sottotrama su questo titolo perché io l'avevo già in testa per una serie di libri c'era una volta il wrestling poi discutendone con il Godzilla lui mi ha tirato fuori questa idea dei mini show che già fermentava anche lei qui dentro e mi ha detto che dovremmo chiamarla così ho detto gods ma tu mi leggi nel pensiero ed è chiaro il riferimento cinematografico c'era una volta in america c'era una volta al west once upon a time e via discorrendo cioè pensate che bello c'era una volta il wrestling eddie guerrero con noi che vi raccontiamo la vita di latino hit oppure c'era una volta il wrestling gli anni di john cena che tra l'altro abbiamo intervistato tante volte abbiamo organizzato il suo unico concerto in italia abbiamo viaggiato in aereo con lui ci sono tante curiosità alcune ancora inedite che potremmo condividere oppure l'epopea dell'undertaker o bruno san martino l'eroe italiano del ring parlare per un'ora di bruno san martino e della sua storia che è favolosa che è cinematografica io tra l'altro non so se ve lo ricordate ma ho in cassetto un libro su bruno san martino praticamente accantonato da anni che oggi non saprei più riprendere in mano ve l'ho anche mostrato tempo fa su twitch era un bel progetto al quale stavo lavorando ci ho investito mesi e mesi poi purtroppo non mi hanno fatto avere le fotografie che mi erano state promesse e senza le fotografie quel libro perdeva buona parte del suo mordente visto che bruno e i suoi avversari andavano visti anche perché è un'epoca del wrestling che il fan di oggi non conosce e che fa difficoltà a reperire o comunque c'è quella pigrizia tale che se trovi tutto in un unico tomo sei a posto ora torniamo però a questi questi eventi simil teatrali no ecco un piccolo sogno nel cassetto che forse resterà lì però sarebbe quello di portarli di portare questi mini show né teatri o anche nelle sale parrocchiali cioè comunque in un contesto ristretto giustamente e intimo specialmente al sud italia io vedo come target quella zona geografica non me ne voglia chi vive al nord o al centro ma già anche il centro è appetibile però chi sta a milano cioè se voleva vedermi mi ha visto abbiamo fatto mille cose però vedo quella zona lì perché so che ci sono tantissimi appassionati me lo dicono le metriche dei miei social e poi lì a parte napoli e roma e tantissimi anni fa giardini naxos beh lì non ci siamo mai stati puglia basilicata calabria sardegna sicilia magari anche abruzzo marche lazio insomma ci sono tante bellissime città tanti bellissimi posti dove non ci avete mai visto dal vivo e a detta di chi ci risiede ci sono tante città dove gli spettacoli scarseggiano si fa poca roba e magari qualche decina di tifosi ad un prezzo popolare può avere interesse a venirci a sentire per scoprire qualcosa su un grande eroe del wrestling e poi interagire con noi con domande risposte foto e via dicendo io ora non so se l'idea diventerà concreta ok però ci sto davvero pensando sopra o alla peggio anche lei la mettiamo lì nella cesta delle cose non fatte ma se non ci si muove non è che la fortuna viene a bussare alla porta o che l'imprenditore ti telefona e ti dice ecco il copione vieni nel nel mio nel mio teatro a fare lo spettacolo certo sarebbe un bel modo per mettere a frutto le tante storie legate ai personaggi più noti della disciplina legandole alle nostre alla mia e a quella di luca come telecronisti ma anche come appassionati aggiungendoci le capacità che abbiamo come storyteller e shakerando il tutto con la possibilità di coinvolgervi dal vivo come vi ho detto con un'interazione diretta domande risposte curiosità qualcuno può anche essere portato sul palco potrebbe uscire qualcosa di carino ora se non dovessi più fare il telecronista avrei sicuramente anche più tempo per scrivere dei libri e magari un paio sul wrestling li ho ancora nei polpastrelli io scrivo praticamente un libro ogni settimana perché una puntata dirò sono dalle 12 alle 20 pagine di traduzione poi c'è nxt poi c'è smackdown cioè c'è davvero tanta roba da sentire scrivere correggere cioè il grosso del lavoro oggi se vuoi fare le telecronache per come noi le proponiamo quindi con la preparazione senza sederti e dire vabbè dai chi se ne frega mi pagano dico tre cose non traduco racconto dico dai quando combatte no è il grosso del lavoro lo facciamo quando nessuno lo vede ok quindi se non avessi tutte queste ore da dedicare alla preparazione delle telecronache scrivere scrivere dei libri mi interesserebbe il problema di questo comparto bisogna essere onesti è che purtroppo la sua remunerazione è molto bassa se non si fanno numeri importanti e malgrado l'auto publishing di wrestling review sia al momento fermo e apro parentesi grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto ho però capito tra l'altro è fermo ma chissà magari riparte però è fermo perché c'è stato un calo di vendite dicevo però ho capito che c'è un centinaio di appassionati che è interessato alla mia produzione e magari questa quantità potrebbe aumentare qualora la proposta non fosse una libro rivista che ha delle rubriche che sono connesse ad un momento storico e temporale preciso ma se al posto di questa ci fosse un lavoro a tema che so vince mcmahon la storia dell'uomo che ha cambiato il wrestling magari avrebbe più mordente sarebbe più affascinante per voi ditemelo nei commenti un libro del genere piuttosto che wrestling review sì c'è qualche articolo ma poi vi racconto quello che è accaduto negli ultimi tre mesi che da qui a tre anni potrebbe non essere più di interesse mentre la storia di un vince mcmahon o un libro dedicato ad altro potrebbe avere una durata eterna quindi non come priorità però metterei nella lista pure questa possibilità scrivere libri di wrestling e perché no magari anche di altro non credo ci siano altre modalità oltre a queste qui per tenermi legato alla disciplina dunque se non dovessero funzionare o qualora se ne presentasse l'occasione io vi dico la verità con un po di tristezza nel cuore con tanta malinconia siamo esseri umani non avrei problemi ad uscire di scena dal grande palcoscenico della tv e a onor del vero questo potrebbe accadere anche fra un paio di giorni io tocco ferro tocco tutto quello che si può ma non decide il sottoscritto quando nel settembre del 2000 ho svolto la prima telecronaca in contemporanea svolgevo altri quattro mestieri perché fare il telecronista allora non bastava per farmi sopravvivere e ho sempre pensato beh durerà un paio di anni non di più perché la previsione era quella il wrestling saliva scendeva le tv ci provavano poi lo abbandonavano lo buttavano su ma era per vendere i giocattoli esaurita la produzione rispariva quindi io stesso ero scettico non ve l'ho mai nascosto e invece oggi nel 2023 il 30 giugno siamo ancora qua a parlarci certo se tutto dovesse finire alla vigilia del venticinquesimo anno come vi ho detto ci resterei male ma è normale no però sarebbe comunque stata una grande avventura che ci ha portato tre volte a Vrestalmenia una a bordo ring e se ci penso oggi a quello che abbiamo fatto mi dico ma ma da dove è saltata fuori sta roba abbiamo vissuto stagioni meravigliose abbiamo incontrato a nome vostro tanti dei nostri miti collettivi e poi siamo entrati nelle case di milioni di fan qualcuno ancora ci segue altri no però ci ricordano spesso con piacevolezza con gioia con gratitudine qualcuno con riconoscenza abbiamo fatto un percorso di vita comune attraverso una passione che ci ha unito la vita è perpetuo cambiamento la consuetudine inceppante è una poesia di armanesse questa che cito ti blocca ti fa sentire al caldo ma a volte impedisce la tua progressione spirituale o umana nulla è eterno dunque sono pronto ad accettare la vita così come ho accettato i successi che per me io non li ho mai vissuti come successi li ho vissuti come mi impegno per qualcosa che mi piace allo stesso modo devi accettare gli insuccessi oppure in quest'altra visione il cambiamento che è inevitabile cambia l'età cambia il corpo cambiano le idee cambiano le frequentazioni cambiano gli scenari la società ti porta a pensare che devi avere delle certezze delle sicurezze che devi contrarre dei contratti inscindibili sia affettivi che lavorativi perché così starai al sicuro ma in realtà la vita vera è un vento che dici attento che così non dovrebbe essere perché tu sei una nuvola che non deve avere un cielo predefinito altrimenti sì starai tranquillo avrai le tue piccole soddisfazioni le tue gioie magari ti sta bene anche così ma ti sarai limitato e avrai corso in un recinto molto limitato ti sta bene sarai come un pesce rinchiuso in una palla di vetro che oltre quei confini non può valicare qui sono i pink floyd quindi su queste basi mi rimboccherei le maniche e affronterei senza troppe lacrime l'ignoto del domani sperando questo sì alla peggio di trovare qualcosa che mi permetta di mettere il pane in tavola con i miei talenti principali che come sapete sono la scrittura appunto e il sapere in qualche modo parlare ecco mi piacerebbe fare questo non finire nel gorgo di un lavoro fatto solo per i soldi ma che però non accende in me nessuna fiamma se ci fosse da scrivere o da parlare da interagire eccetera lì mi sentirei di sicuro a mio agio ovviamente dovendo poi imparare e adattarmi alla nuova situazione se così non fosse temo che il frank a sua insaputa dovrà continuare a mantenermi ok mettiamola in cacciara anche se temo che pure per lui potrebbe diventare complicato farlo e questo è quanto ok quindi se finisce tutto se devo cambiare vita guardia alta e vediamo che succede mettiamo un po di pepe di punti di domanda nel domani ovviamente io spero di continuare a fare ciò per cui mi sento maggiormente portato cioè il telecronista cioè una porta o una finestra che si aprono per condividere insieme a voi il panorama del wrestling e nello specifico della wwe ma se così non dovesse essere l'elenco ve l'ho fatto vediamo che salta fuori se avete altre idee o lavori da propormi se siete dei grandi imprenditori dei carcarlo pravettoni o ingaggiatemi che vedevo lì e questo è quanto prima di andarmene lasciate un mi piace al video ok non sto ancora scomparendo quindi prima che me ne vada lasciate il mi piace e ricordatevi due cose la prima è che sabato dalle 20 su twitch facciamo la live reaction di money in the bank vi lascio il link nella descrizione del video scrivetevi già la piattaforma che si accende stasera alle 22 30 circa perché si gioca un po insieme al mio staff con wwe k23 e poi c'è la live reaction anche di smackdown la seconda cosa ma già la sapete è che potete dire la vostra su quanto ho esposto qui sotto con dita roventi nella sezione dei commenti a